perché col passare del tempo tutto si confonde e prende la forma di un sogno che continua anche ad occhi aperti anche ora che sono qui in questo luogo che non so definire che mi sembra più uno spazio irreale che un posto concreto senti se la testa che aperto non deve servirmi ad altro che a sbattere un nuovo paziente ma signora ogni volta la stessa storia mi fa tanta paura me lo uccidi? è fluido lo vedo aveva ragione Bergson basta se continuate così vi faccio cambiare turno e vi fiamco una volta e per sempre oddio che hai fatto? hai colpito un altro? ma sfido io vuoto bisognava scoperlo tirare oddio che foglio? e chi? e chi? e i signori? credo di avere colpito in testa un luogo ma che cosa vuoi che ti faccia? un puscio vuoto in testa ancora allucinazione altro che mi tocca far finta di essere un certo socrate qua sotto ci sono gli orti si potrebbe bere qua presto presto domattina si lasciami fare adesso e non mi fai stornare Bergson quello che mi fremmi a sapere se hai dormito bene sto ancora sognando si figuri prima alla pistola alla pistola? ma forse per sbiare la spada capisci perché i miglioriti certo con la pistola? ma che dici? quello? ma quello di Brocch ha un soldo incastrato in un algoro a 20 passi? e ha proposto lui benanzi la pistola lui! 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 compressore! oddio si è sfilato domattina 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 all'alba si e rimasi lì solo pieno di amarezza ma deciso a portare a termine il piano che mi era apparso chiarissimo fin dall'inizio domattina domattina Grazie a tutti. Grazie a tutti.